che quindi è dedicata, io ero verso l'infanzia ma lei altrettanto Elvira è presidente di un'associazione che si chiama Tutti Giù per Terra voi vedrete diverse brochure in giro e appunto cura l'educazione dei bambini con delle iniziative molto interessanti questa amministrazione, questa idea, questo concorso è nato mentre facciamo la pulizia delle spiagge, le serine sì, perché forse qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa ma a giugno insieme all'amministrazione in cui appunto è presente l'assessore al turismo in motesta anche lui con noi faceva parte della squadra pulivamo la rilla col con il borsellino, le spiagge notando quello che purtroppo la gente lascia quindi abbiamo pensato che fosse un'idea carina quello di fare un concorso di disegno, facendo disegnare i bambini per parlare di ambiente, per parlare di spiagge, belse, turismo perché abbiamo delle risorse bellissime se ben sfruttate, utilizzate possono essere una grande risorsa